Ben ritrovati. Giornata terribile. Abbiamo un numero elevatissimo di contagiati, il più alto finora e anche una brutta notizia dalla nazione, dall'Europa a proposito del vaccino AstraZeneca, l'avrete saputo, è stato ritirato anche nel nostro paese per verificare se dà effetti collaterali così importanti come è accaduto in Danimarca. Un'altra però buona notizia è che invece l'altro vaccino, il Johnson & Johnson, è stato approvato e quindi presto arriverà anche in Italia, in Europa e in Italia. Questo vaccino, questo Johnson & Johnson piace molto di più, è molto più popolare perché si tratta di un vaccino che bisogna fare solo una volta, non c'è nessun richiamo, non bisogna conservarlo a temperature eccessive e poi soprattutto non ci sono le categorie, non vale l'età perché dai 18 anni in su può essere usato per tutte le fasce di popolazione. Bene, quindi in questa giornata in bianco e nero c'è anche un'altra notizia che è quella dell'ospedale della Fiera. Finalmente si sono visti sia il direttore del Policlinico che i sindacati hanno cominciato a discutere. Nalla fine della giornata della riunione è venuto fuori che prossimamente a ore dovrebbero essere trasferiti i primi malati in terapia intensiva, cioè presi in blocco i malati in terapia intensiva e portati alla Fiera del Levante. Si tratterebbe di usare non 16 come era stato previsto nelle ultime decisioni, ma 32, cioè tutti e due i moduli del Policlinico. 32 letti, naturalmente non tutti subito, ma un po' alla volta. Tutto fatto? No, neanche per idea, perché questa decisione è solo nella testa del direttore del Policlinico. In realtà i medici vogliono capire molto di più, sono sempre gli stessi, sono costretti, come sappiamo, a turni infernali e adesso devono zompettare da una parte e l'altra. Quindi non ci sembra che sia conclusa la telenovela Fiera del Levante. Non vi faccio nessun altro commento sull'argomento perché ne abbiamo parlato fin troppo. Speriamo solamente che i medici possano trovare una strada che li faccia fare il loro lavoro al meglio, perché se il loro lavoro lo fanno al meglio anche i malati staranno bene. Vi ringrazio molto e ci vediamo domani.